L'argomento è una foglia, un gritto di merda, un italiano è la stessa storia, ma con lui non c'è memoria. Sono proprio tutti i morti, sono tutti i morti, con tutti i cantautori, come balli, allenatori, crematori, ma la magia un po' di cuore. Non fumo, ma non fiori, ma mi piace scorciare, non diremo per boccare, non c'è niente da salvare. Ma mi piace volare, giocando con i sogni e a tutti i macchi, ma mi piace volare, facendo i pensi a correre ma l'uomo. Vedi il piatto è sorvegliato, non vedete per camminare di più, che non c'è niente da salvare in alto tempo, ma guarda che la diva non fa sconti la diva, no? Ma guarda che la diva è molto dura, ma è presto che ho paura, ma guarda che la diva è molto dura, c'è un pubblico di merda, a condividere in media, e da guarda che la diva è molto santo, ma guarda che la diva è molto dura, perché è sorvegliato, sono più belle, molto più nella pelle, e che ha di come al solito! Grazie. E ora, io caro pubblico, caro come il mio tivo di carogna, di tirar fuori il nostro cappello dal cilindro, Cioè, no, il coniglio dal cilindro, no, cos'era? Cosa? Ma non c'è di carbone, assolutamente. E' il più brutto, insomma. Ma l'altro caffè dal cilindro hai detto? Il cappello dal cilindro? Si, l'ha detto, l'ha detto. Sembrava. E' bello... Ok, l'ha detto, è finito. Non è di ossido, è di meno di ossido, Il nostro servizio, il calore, il peste, La molle non l'ha, anche già di brulla, Il nostro prende un giro, quello solo ce l'ho, Il canto che mi merda, E' bello, Ma tagliate, teca? Questo è un pasto di notte, Sì, l'ho detto, è quello di cazza. Il nostro servizio, il calore, 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 il calore Se è cantore di merda, ma per la speranza è un po' sotto i maschi, sopra le loro lecaccia. Olacido di caffèo, olacido di sodio, olacido di carbonio, olacido di sodio. Non lo stai ripresentando sui nuovi rispondi, ma in questa parte di questa parte sarebbe il guitarrista, il nostro caso primo ascolto. Questo che faranno tutti i canti, indecibili, che matureranno per il momento. La scena passente, ma andresa, la scena è un po' sotto i maschi, sopra le loro lecaccia. ... Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!